Sì, loro bella squadra, sono saliti quest'anno, però sia l'andata che il ritorno mi hanno impressionato parecchio. Noi dovevamo fare questo tipo di partita, soffrendo, come ho detto l'ultima volta nell'intervista, soffrendo tanto perché comunque veniamo da un periodo particolare. Oggi eravamo otto contati, si è fatto male Gabriele Pompei che si è tagliato il sopracciglio e ha dovuto uscire, ha giocato il presidente. Sono contento per lui che ha giocato, abbiamo vinto, però sì abbiamo fatto una gran bella prestazione. Abbiamo sprecato praticamente quasi zero e è quello l'importante. E come può cambiare? Può cambiare che sono tre punti importanti, può cambiare che dall'inizio dell'anno che diciamo che forse siamo stati un po' sfortunati, un po' vicissitudine, però la situazione è questa e quindi non ci possiamo nascondere, ci dobbiamo salvare e dobbiamo continuare così. Può cambiare che porta ottimismo e chissà, forse vittoria dopo vittoria l'ottimismo continuerà.